Benvenuto Quale posto migliore per lasciarsi coccolare se non il tuo caldo letto Con le sue soffici coperte Quando entri in questo luogo tutto il resto scompare Questo è un posto fatato Magico Dove si spegne ogni pensiero Dove cessano Le fatiche quotidiane Dove tutto si attenua E lascia il posto Alla più bella delle sensazioni Quella di sentirsi In un luogo familiare E protetti L'odore di pulito L'ambiente accogliente La consapevolezza Di non dover più far nulla Se non chiudere gli occhi E abbandonare Il controllo della propria mente Questo letto magico E' come una porta Che permette il passaggio dal mondo reale Ad una realtà desiderata Da un luogo concreto Dominato da rigide norme E regole E regole Ad un luogo dove solo l'immaginazione Può porre dei limiti Ed inizi a respirare Profondamente Dei bei respiri profondi Dove prendi l'aria Che riempie completamente i tuoi polmoni E la butti fuori Svuotandoli completamente E il tuo corpo Comincia a sciogliersi Lo senti liquefarsi Come c'era al sole Mentre allo stesso tempo Diventa sempre più pesante Ed impossibile da muovere Senti le braccia Senti le braccia Che prendono contatto con il terreno Pesanti Pesanti E rilassati Allo stesso tempo Così come il tuo capo Le tue spalle E tutto il tuo tronco E tutto il tuo tronco E il tuo corpo E mentre assecondi questa sensazione di pesantezza e svuotamento, senti anche la tua testa libera e scevra da problemi e pensieri. La senti stanca, poggiata con tutto il suo peso sul cuscino, vuota ma pesante, libera ma impossibile da muovere, e continui a respirare liberamente, mentre ti accorgi che anche la parte inferiore del tuo corpo si sta svuotando, come fosse liberata da tutta l'energia, come dopo aver fatto un allenamento pesante, e mano a mano che diviene più stanca diventa più pesante, ancorata al suolo ed impossibile da muovere. E ti godi appieno questo momento, questa sensazione di calore mista a torpore in cui è crollato il tuo corpo, mentre con la mente cerchi di captare tutte le sensazioni provenienti da te stesso, e ti lasci andare sempre di più, come caduto in uno stato di rilassamento profondissimo, profondissimo, ed anche l'aria è diventata completamente pesante, come se ti stesse trattenendo al terreno, come se la forza di gravità fosse aumentata di tante volte, e ti senti ancorato, calmo, intorpidito, nel tuo luogo sicuro, nel tuo caldo letto. tutto si prepara a portarti in un mondo incantato, dove la tua mente è padrona indiscussa di tutto ciò che ti circonda, e piano piano cominci a scivolare in un mondo idilliaco, vedi intorno a te delle luci e dei colori, che prima non erano presenti, e la calma si impossessa della scena, rendendo tutto improvvisamente statico ed immobile, mentre continui a scivolare sempre più in basso, sempre più inconsapevole, sempre più crollato, in uno stato soporifero ed ipnotico, e cadi in un letargo fiabbesco, mentre il tuo corpo viene realmente ricoperto, di una candida e calda cera, che ti racchiude come in un involucro, e ti mantiene al caldo, e dal sicuro, un guscio soporifero, che racchiude la tua essenza, in un bozzolo di protezione e pesantezza, e mentre la cera continua a ricoprire il tuo corpo, tu non puoi far altro che lasciarti trasportare, più giù, sempre più giù, 5 la cera continua a ricoprire tutto il tuo corpo, 4 ricopre gli arti superiori, quelli inferiori, e la tua testa, 3 la cera cosparge adesso tutto il tuo corpo, avvolto in un bozzolo bianco, due, la cera comincia ad indurirsi, sempre di più, sempre di più, sempre di più, uno, ormai la cera è come un caldo involucro rigido, che ti contiene, completamente, adesso ti rendi conto, che ogni movimento, è praticamente impossibile, a cominciare dalla tua testa, fino alla punta dei tuoi piedi, e non puoi far altro, che calmarti, e a consentire a questa condizione, di torpore controllato, e mentre il tuo corpo è avvolto e placato, la tua mente, vaga e incontrollata, nessun pensiero reale, può accostarsi ad essa, perché in questo momento, solo la fantasia, può governare la tua mente, nessun pensiero razionale, può essere elaborato, ogni cosa, si trasforma immediatamente, in qualcosa di intangibile, qualcosa che mai avevi visto, in precedenza, ed è una sensazione fantastica, a cui ti abbandoni completamente, la tua mente, vaga in posti fantastici, che cambiano la loro conformazione, continuamente, e incontri persone, identità, che non sono mai le stesse, di qualche secondo prima, avanti e essa, non è un'unica solito che ha fatto, Fino a quando una forte luce ti abbaglia, talmente tanto da non renderti più capace di osservare nulla. Sei come abbagliato dalla luce del sole. Una luce che diffonde in te un senso di quiete e sicurezza. Mentre ancora una volta ti lasci andare, chiudendo gli occhi ed osservando la luce colorare l'interno delle tue palpebre, spegnendo ancora di più il tuo cervello e rendendoti consapevole di un punto al centro della tua fronte. E la luce è calda, è meravigliosa. Tanto da cominciare a sciogliere la cera che ti avvolge, che come fumo viene attirata verso l'alto in un movimento sinuoso e goliardico. E continua a sciogliersi. Mentre la tua mente continua a focalizzarsi su quel punto al centro della tua fronte. Mentre con i tuoi occhi ancora chiusi, continui ad ammirare quella luce fantastica, penetrare le tue palpebre. E colpire la tua retina, regalandoti un piacere intenso e prolungato. Mentre la cera continua a sciogliersi, completamente. La luce si affievolisce, lasciandoti ora una sensazione di appagamento e benessere. Lasciando la tua mente completamente vigile e controllata. Mentre il tuo corpo resta intorpidito, stanco ed immobile. Ed è proprio in questo momento che ti accorgi che il sogno in cui sei entrato è malleabile. come fatto di plastica morbida e ti accorgi che con il solo potere della tua mente sei in grado di plasmarlo a piacimento. Puoi creare quello che meglio credi e ti accorgi che anche tu sei fatto di plastica morbida. Senza dover muovere un muscolo puoi vagare per il mondo da te creato, plasmando la tua forma. Puoi assumere qualsiasi sembianza e tu voglia. Puoi decidere di scomparire lasciando una pozza d'acqua sotto di te e puoi scegliere di riapparire Poggiato ad una roccia. Puoi decidere di plasmare oggetti e persone, luoghi e puoi decidere che questi abbiano vita propria. Con le loro emozioni, le loro sensazioni. E continui a vivere questo mondo, dominato dalla tua mente, dominato dalla tua fantasia e dalla tua capacità creativa. Sei entrato all'interno dei tuoi sogni dove ne sei il creatore e protagonista. Riuscirai ad uscire da questo stato in qualsiasi momento tu lo voglia e potrai creare e distruggere a piacimento ogni volta che lo vorrai il tuo mondo o i tuoi mondi. Riuscirai ad uscire da questo mondo. Conserva nella tua mente questa esperienza fantastica che potrai rivivere ogni qualvolta ne sentirai la necessità. Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio